Grazie, Erman. Grazie a tutti. Come ha cambiato il mondo dell'articolo? L'articolo non ha cambiato. L'articolo è sempre importante. L'articolo non può cambiare. L'articolo è l'articolo. Quali sono i principi problemi e i principi obiettivi di lavorare come artista? In vostra opinione. Devo farlo. Abbiamo solo ascoltato un concerto di vostro. Qual è la vostra relazione con la musica in particolare come un strato di arte? È potente. L'articolo è un lavoro di arte. E io uso tutti i sensi, gli occhi, il sentimento, il sentimento, l'esercito, l'esercito e il tocco. E quindi la musica è una parte molto importante del mio mistero. Quali sono le migliori soddisfazioni nel vostro lavoro? Per prima cosa mi piacevole. E poi è possibile che le persone almeno mi piacevole. E poi ho avuto la direzione. La cultura è sempre molto, molto importante. E io ho avuto la direzione. E io ho avuto la propria vita. E io ho avuto l'artista. L'artista è una metafisica per me. Come una religione. Quali sono le sede, le principali sede che vivete con il tuo lavoro? E io ho ho. E io ho che speré. E io ho avuto il tuo il conoscenza. E io ho avuto la riposta e l'intensity. grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille